benvenuti a tutti in questa diretta oggi grazie infinite all'associazione sankirtan yoga per avermi invitato nella pagina facebook per parlare di questa tematica come avete visto il tema di oggi sarà 12 riflessioni esoteriche su rama e krishna vedremo questi due personaggi e che relazione hanno fra di loro per chi non lo sa sto portando avanti un podcast namaste rodica namaste stefano namaste cinzia jody namaste a tutti quelli che sono qua presenti sono felice che siete qua con noi e maria gian pietro stefano carla benvenuti a tutti è un piacere essere con voi oggi e quindi oggi affronteremo questa tematica che è interessante esoterica allo stesso tempo ma anche piena di spunti culturali di vita come sapete insieme stiamo leggendo nella pagina ramayana per gli oghi moderni questo testo il ramayana ma c'è in cui la figura di rama è di spicco ma allo stesso tempo molti di voi conoscono la figura di krishna per il percorso che avete fatto una figura che troviamo nel shimambhagavatam e che troviamo in varia letteratura diciamo che queste due figure divine speciali superiori sono molto presenti in tutta la letteratura li troviamo nel mabharata nel mabharata troviamo krishna nella bhagavagita che molti di voi che praticate yoga e conoscono bene e rama lo troviamo appunto nella mayana in questi 24.000 shloka e direi che sono due figure che si incontrano ma non si incontrano perché appartengono a periodi storici molto differenti molto lontani e voglio farvi vedere come invece sono così uniti sono così connessi fra di loro diciamo che questa è un'edizione quindi speciale in cui vi dirò delle cose che sono anche segrete che non si conoscono che richiedono in qualche modo un parallelismo tra queste due figure che agiscono in modo parallelo anche se le storie si incrociano in qualche modo e vedremo i punti in cui queste si incrociano vi parlerò di vite precedenti vi parlerò di di stirpi regali come sempre nel ramai una periodo moderni vi parlerò di incroci tra tra vite parallele e vi parlerò di similitudini tra questi due personaggi e secondo me sono dei punti interessanti soprattutto per chi chi gli piace sapere i dettagli delle cose delle storie sapete vi ho detto più volte per chi segue ramai in a periodi moderni che leggere il ramai nel leggere il mar barata è centomila volte più più edificante di beautiful ma allo stesso tempo centomila volte più crea ancora più dipendenza di beautiful per chi per di una sitcom o adesso ci sono le serie netflix che creano una dipendenza incredibile che uno non si riesce a schiodare e così queste storie sono pieni di dettagli di particolari che possono essere assorbiti che ci possiamo buttare possiamo entrare dentro questi dettagli e trovare sempre una nuova freschezza proprio perché chiaramente anche chi fa televisione chi fa questi video queste serie televisive chi fa le telenovela sa benissimo che si sta agganciando ad un bisogno umano che è quello di far volare l'immaginazione di seguire dei personaggi di immedesimarsi con delle storie tanto più quelle storie proseguono nel tempo tanto più questa immedesimazione questo desiderio di di seguire questi personaggi aumenta nella vita della persona diventano parte della famiglia ecco per qualcuno di voi forse rama vishwamitra lakshman e ramayana per yogi moderni sono parti della vostra vita ed è bello che sia così sapete perché perché queste storie che entrano nella nostra vita ci portano anche i valori che trasmettono quindi queste storie come un tempo il teatro greco che doveva essere anche fonte di educazione queste storie sono anche un potentissimo forma di educazione che agisce attraverso l'immagine quindi parla anche in modo più diretto all'inconscio e allo stesso tempo queste immagini ci riempiono ci ci fanno vivere delle esperienze con rama vedremo l'esperienza dell'esilio che è il primo lockdown della storia e quindi ci sentiremo molto affini a rama quando gli tocca andare in esilio non tornare più nella sua terra rama non indosserà mascherine però non potrà tornare nel suo regno nei suoi agi e dovrà vivere una vita semplice nella foresta e quindi potremmo immedesimarsi in questi personaggi ma soprattutto ma soprattutto vedere come questi personaggi reagiscono alle situazioni perché quello la differenza tra un uomo e una donna evoluti o un uomo e una donna che non sono evoluti quindi questi modelli di personaggi evoluti come vedremo ravana quindi anche il modello di personaggi non evoluti al confronto quindi li vedremo da una parte questi grandi personaggi dall'altra questi personaggi invece tenebrati e da questo traiamo noi poi le conclusioni è naturale trarre le conclusioni e le storie parlano ancora di più della filosofia parlano ancora più in profondità così possiamo dire che nella letteratura vedica abbiamo due strade parallele se vogliamo quella del sole e quella della luna ecco chi fa yoga di voi la tayoga vuol dire proprio parte del sole parte della luna quindi c'è emisfero destro emisfero sinistro parte maschile parte femminile ecco questa doppia parte che non ci serve analizzare per creare una dicotomia tra queste due parti una divisione ma ci serve per integrare queste due parti ecco questi due personaggi la prima cosa che possiamo dire la prima somiglianza la prima riflessione è che entrambi sia rama come potete ascoltare o leggere da ramayana sia krishna come potete leggere nel bhagata purana nel vishnu purama in letteratura più più recente come il gopalachampu l'ananda vindavanachampu e tutta questa letteratura che contiene questi cosiddetti passatempi queste storie di krishna c'è un commentario di facile lettura di semplice lettura che si chiama il libro di krishna che potete trovare anche su ebay penso anche su amazon che parla delle storie di krishna per chi vuole avere diciamo anche un testo di riferimento nel mabharata sentiamo parlare di krishna ovviamente ma il mabharata a differenza del bhagato purana e di altre letterature è incentrata è incentrato più sul dharma e personaggi come i yudhishtira come i pandava molto spesso sono i protagonisti poi di quelle storie se vogliamo trovare luoghi in cui il krishna è descritto più in dettaglio dobbiamo affrontare i purana come ad esempio lo shiman bhagata che vi ho citato ma anche il vishnu purana ha una grandissima sezione che parla di queste storie che riguardano krishna che ruotano intorno a krishna quindi qualcuno di voi forse già conosce krishna perché ha letto un certo tipo di letteratura o quanto meno la bhagavagita qualcuno no e quindi è invitato magari ad approfondire questo personaggio qualcuno conosce rama perché già segue ramayana per gli oghi moderni qualcuno invece no perché magari non ha ancora ascoltato e vi invito anche a visitare la pagina facebook ramayana per gli oghi moderni se ci sei in linea kishori magari puoi scrivere in chat l'indirizzo del della pagina perché c'è un podcast completamente gratuito che sto facendo proprio come un servizio e che parla di rama della storia di rama e appunto immagino se siete attratti siete stati attratti dal titolo 12 riflessioni esoteriche chiaro esoteriche interessa a tutti tutti coloro che stanno nel mondo dello yoga però su rama e krishna probabilmente sapete qualcosa su rama e krishna avete un'idea e quindi nel caso comunque scrivete in chat e vi rimando anche i testi di riferimento ok entrambi i personaggi appartengono a stirpi regali quindi sono dei dei re o dei principi rama è un principe il principe della dinastia del sole chiamata in sanscrito surya ecco per chi fa yoga conosce bene questo termine come il surya namaskar il saluto al sole e la luna chandra ci sono due dinastie nella letteratura vedica la dinastia che viene dal sole e la dinastia che viene dalla luna entrambi sono stirpi regali con una successione di re vengono chiamate le le stirpi purani che ancora abbiamo una traccia di queste stirpi tanto che queste stirpi da alcuni indologhi vengono utilizzate per datare la letteratura vedica proprio datando quando questi re sono saliti al potere e così via e ci sono due filoni uno del sole e uno della luna rama viene dalla dinastia del sole e krishna viene dalla dinastia yadu la dinastia della luna il sole la dinastia del sole quella di svaku troviamo riferimento a questa dinastia anche nella bhagavagita krishna la cita dicendo che lui stesso ha dato questa conoscenza la conoscenza dello yoga e delle quattro forme primarie di yoga che sono descritte nella bhagavagita karma yoga lo yoga dell'azione ghana yoga lo yoga della conoscenza diana yoga la yoga della complet della contemplazione lo yoga delle otto fasi e bhakti yoga lo yoga dell'amore della devozione e dice krishna che rivelò tanto tempo fa a vishvavan il beva del sole che il capostipile capostipite di questa dinastia gli rivelò questa scienza dello yoga e che poi questa scienza passò a mano che passò ad isvaku isvaku è uno dei proprio dei dei precursori di questa dinastia del sole e poi passò a vari re santi e poi questa conoscenza venne perdute quindi krishna si stava appunto in questo campo di battaglia all'interno della bhagavagita si stava prodigando a riesporre questa conoscenza dello yoga d'arjuna in una situazione un po particolare che descritta nel ma barata all'interno di una grande guerra quindi krishna stesso dice che lui stesso lo disse ad isvaku quindi era l'iniziatore di questa dinastia dal sole da cui poi è arrivò rama quindi questa è una prima connessione che troviamo nella ghita tra la dinastia del sole da cui deriva la stirpe di rama e la dinastia della luna una cosa interessante per chi mi segue anche per quanto riguarda l'astrologia vedica l'autore del vishnu purana una letteratura che tra l'altro contiene una sezione un libro completamente dedicato a krishna l'autore chiamato parasharamuni il padre di viasadeva che il compilatore di tutta la letteratura vedica originaria era un grande astrologo e questo grande astrologo questo padre di viasadeva questo parasharamuni spiega che ogni ogni pianeta è associato a un avatar di vishnu ecco vi dico prima che sia rama che krishna sono considerati nella letteratura vedica degli avatara di vishnu adesso vi spiegherò se mi date la possibilità chiaramente non mi potete rispondere quindi me la prendo e di spiegarvi anche il concetto di avatar e avatari proprio per spiegare una delle domande che ho sentito e che potrebbe essere interessante da dire a volte ci si chiede ma krishna è un avatar di vishnu o è la sorgente di tutti gli avatar adesso scrivetemi in chat se è una domanda che vi siete fatti anche voi perché vorrei rispondere se non mi scrivete in chat che vi interessa sorvolerò questa domanda perché capisco che potrebbe essere troppo tecnica magari per voi che state ascoltando quindi fatemi sapere se mi seguite scrivetemi in chat perché oltre avere la telecamera ho anche il cellulare così che posso osservare la chat se mi scrivete e mi fate domande o mi dite qualcosa se è una domanda che vi interessa fatemelo sapere scrivetelo in chat ok quindi entrambi krishna e rama sono avatara di vishnu cos'è un avatar un avatar è una manifestazione divina che si manifesta per un certo scopo per un certo per una certa modalità per un certo per compiere una determinata missione generalmente le cui missioni si possono anche riassumere come spiega la ghita in alcune attività che rappresentano appunto la funzione di vishnu che come guna avatara come vishnu insieme a shiva e abrama reggono i reggono i guna quelle le influenze le energie della materia che permettono di creare brama brama il creatore mantenere è proprio il ruolo di vishnu e distruggere il ruolo di shiva quindi vishnu appare secondo la letteratura di riferimento quella endovedica appare in una sua forma per mantenere l'universo quando questo universo questa lotta ancestrale tra bene o male tra deve asura si mette male quindi l'universo potrebbe distruggersi anzitempo dunque entrambi sono avatara quindi questo sicuramente sono connessi a vishnu ora entrambi non solo vishnu discende come avatara per mantenere il cosmo ma uno dei suoi ruoli è anche creare proprio queste storie proprio inscenarle inscenare queste storie in modo che queste storie possano appassionare gli yogi che invece di guardare beautiful le serie netflix ascoltano ramayana per i yogi moderni quindi non potete dire che vishnu non crei situazioni in cui si possa sfruttare trasformare il desiderio di del gossip di sentire parlare degli altri c'è chi compra tutte queste riviste per sapere i gossip di qualcun altro c'è chi parla del gossip di quello di quell'altro ecco lo possiamo fare anche nello yoga parlando dei gossip di rama e di krishna è quello che stiamo facendo oggi vi dico dei dettagli che non sapete e che ho sentito dai maestri questo è gossip ma è gossip divino evolvente che ci evolve perché queste storie tengono all'interno degli insegnamenti fondamentali che possono essere veramente applicati alla nostra vita quindi ok qualcuno mi ha scritto che gli interessa sapere davide ciao davide mavir ciao rodica cinzia raffaele grazie mille anche stefano e allora krishna è sia un avatara che un avatari è vero contemporaneamente e vi spiego questo solo una volta in un giorno di brama in un calpa che è una gli avatara discendono in ogni ciclo di yoga a compiere determinate missioni ma solo una volta in un giorno di brama che sono miliardi e miliardi di anni sono ere cosmiche krishna discende come avatari come sorgente di ogni avatara il resto dei cali del dei dvara payuga delle ere cosmiche in cui come un orologio krishna discende discende come espansione di vishnu questa è una cosa un tecnica ma spiega che non c'è contraddizione a dire che krishna è un avatara di vishnu e allo stesso tempo non c'è contraddizione a dire che krishna è la sorgente di vishnu sì rodica spiega che vishnu si incarna a causa di una maledizione è vero ma questo fa parte del gioco sono dei giochi in cui vishnu in qualche modo quindi in questi giochi divini vishnu si fa maledire e fa finta di doversi incarnare per forza quindi sono come dei giochi come delle rappresentazioni teatrali che scattano dei meccanismi che fanno scattare dei meccanismi per creare ancora più gossip per creare ancora più più incroci tra le situazioni e per creare piacere anche nell'ascoltare e penso che si è ascoltato quel quell'avvenimento di vishnu che si fa maledire da brigomuni ad incarnarsi dieci volte perché vishnu aveva dovuto tagliare la testa sua moglie perché stava dalla parte aveva altissimo tradimento stava creando dei grandi problemi e poteva distruggere l'universo e allora vishnu deve fare quest'atto ma accetta la punizione e in questo modo vishnu mostra un'incredibile tolleranza che è una delle caratteristiche di vishnu quindi questo questa apparente contraddizione tra il fatto che krishna è la sorgente di vishnu e dal fatto che vishnu sia la sorgente di krishna nasce nel fatto che solo una volta in ogni calpa in ogni era cosmica macro era cosmica krishna discende proprio discendendo dalla dimensione più alta invece il restante delle volte krishna si manifesta come avatara di vishnu quindi emana da dal paramatma e lo stesso accade per caitanya maprabhu per chi è nella tradizione gaudiya vajnava sicuramente capisce questo per chi non è in questa tradizione non conosce se caitanya ma proprio non è importante facciamo giusto un brevissimo escursus non vi preoccupate se non riuscite a cogliere questo punto ne coglierete altri ma anche se caitanya maprabhu si incarna si manifesta nel calpa nella situazione nel momento in cui krishna si manifesta come avatari come sorgente di vishnu si manifesta si manifesta come espansione di vishnu caitanya maprabhu si manifesta come espansione di vishnu e si chiama caitanya narayana e il suo ruolo è quello di portare lo yuga dharma ma non non di spiegare quegli intimi passatempi che invece krishna vive avrindavana quindi questa era in cui viviamo in cui krishna ha narrato la bhagavagita è un'era speciale perché è proprio in questa era in cui krishna si manifesta come avatari nelle altre ere cosmiche negli altri dvarapa yuga e kali yuga sia krishna che caitanya maprabhu non si manifestano come avatari ma avatari significa la sorgente degli avatara ma come avatara di vishnu quindi qua abbiamo tolto questa contraddizione che chi studia yoga purtroppo può arrivare a questa contraddizione che si dice che krishna è avatara di vishnu non so se a voi è mai capitato di sentirlo ma allo stesso tempo a volte si dice che krishna è la sorgente di vishnu ecco chi ha ragione o torto adesso lo sappiamo dipende da che prospettiva da che era in che era stiamo parlando ok quindi entrambi sono avatara questa è una cosa che li accomuna entrambi sono delle figure divine che però giocano i ruoli poi le personalità sono diverse krishna un certo personalità e rama ha un'altra personalità ok e queste le vediamo attuate nelle varie letterature di riferimento ma qua vogliamo proprio vedere quelle che li unisce quelli che li separa i punti che ci danno una riflessione come vedete vi sto parlando di cose estremamente esoteriche quindi mi scuso per chi magari non conosce queste cose magari si trova in difficoltà perché sto dicendo troppi nomi l'idea era proprio di parlare comunque a un pubblico che potesse capire o che potesse essere interessato di queste differenze scrivetemi se avete domande se avete considerazioni io le leggerò proprio perché voglio che questi messaggi siano in qualche modo compresi sono più che altro curiosità esoteriche parallelismi esoterici che possono essere interessanti e utili per chi già fa uno studio di approfondimento o per chi è curioso e si sta appassionando a queste storie queste dinamiche ok un'altra cosa molto interessante per chi segue ramayana per gli yogi moderni abbiamo proprio appena raccontato la storia di tadaka di questa asuri di questa yakshini che viene maledetta da un grande saggio e col suo rancore appesta un'intera foresta ecco questa è la prima la prima demonessa la prima strega la prima la prima persona in assoluto che che ramo uccide rama la prima figura che uccide è una è una donna una donna una donna chiaramente non di una donna con la d maiuscola ma una donna che è criminale una donna che ha che ha in in qualche modo infranto l'etica e la morale diventata proprio una persona criminale la cosa interessante che praticamente il primo asura che anche krishna uccide se non consideriamo stancata asura che che viene proprio toccato in modo molto veloce anche nel baghata purana questo questo sorta di fantasma che stava in quel carro e krishna gli da un calcio e lo uccide ecco se non consideriamo questo praticamente la prima vera asura che krishna uccide come cinzia ha già capito e putana che appunto una strega anche questa una strega che una donna che ha perso tutta la sua morale tutta la sua etica e che addirittura era famosa per creare violenza fra i bambini infatti quando kamsa si accorge che krishna può ucciderlo può essere kamsa lo zio materno di krishna riceve una sorta di di voce eterea che gli dice l'ottavo figlio di deva chi è vasudeva i genitori di krishna e ti ucciderà quindi krishna sarebbe stato e kamsa si preoccupa e vuole uccidere tutti i bambini un po vi ricorderà la storia biblica uccidere tutti i bambini che possono essere appunto quel suo angelo della morte e così arriva questa persona e questa donna bellissima in realtà era una strega che si era travestita entrambe sia tadaka che putana avevano il potere che si chiama kama rupini kama rupini vuol dire rupa vuol dire forma rupini vuol dire colui che ha una forma kama desiderata in poche parole significa una persona che in grado di mascherarsi di cambiare forma piacimento è un potere mistico dello yoga entrambi avevano questo potere tadaka aveva anche lei il potere di cambiare forma di prendere l'aspetto che voleva non lo esiste non lo eserciterà verso rama perché la sua furia talmente forte da andare combattere uccidere così via questa forza distruttrice si si esprime in modo incontrollato ed esplosivo mentre putana proprio per uccidere e krishna si traveste da una bellissima donna ed entra a vrindavana la terra in cui krishna stava vivendo si era rifugiato in quella terra per non essere ucciso da kamsa l'avevano fatto rifugiare non era una sua scelta o meglio tutto una sua scelta ma nell'ottica dell'ira era stato portato in questa terra di vrindavana questa terra bucolica diremo per citare virgilio e agro pastorale un posto bellissimo fantastico naturale e viveva là e arriva putana che vuole dargli il suo seno krishna è proprio un bambino piccolo vuole dare il suo seno perché nel seno aveva spalmato del veleno per uccidere appunto questo bambino ma krishna succhia il latte che c'era in in questa donna in questa strega e succhia anche il suo prana il suo aspetto il suo aspetto vitale la sua vitalità la sua la sua la sua la sua vita stessa e questa strega muore ecco entrambe rappresentano sia per krishna che per rama sia krishna che rama avevano un rispetto quasi illimitato verso il femminile e verso soprattutto la maternità rama aveva vissuto con l'idea di una maternità perfetta di donne perfetto donne modello le mogli di dasarath le tre mogli principali dasarath erano per lui delle madri modello e così krishna avrindavana aveva delle madri modello eppure vediamo nella forma di tadaka che rama non riesce a immaginarsi un criminale quindi pensa che tadaka sia effettivamente una donna perfetta e putana si traveste da madre che dà addirittura il seno a krishna ecco questo è sicuramente un punto fondamentale entrambi le storie rappresentano delle figure che si mostrano in un modo o dovrebbero essere in un modo ma invece agiscono in un altro modo e quindi la prima cosa che che questi due avatar uccidono è la tendenza all'inganno alla manipolazione quello che potremmo che in inglese si chiama ulterior motive ovvero quelle fare delle cose con sotto sotto motivazioni egoistiche con sotto sotto l'idea di sfruttare qualcun altro ecco krishna e rama ci tengono la prima cosa che fanno sulla terra a mettere in chiaro che queste figure non sono gradite ok vi stavo parlando prima di avatari e di avatar e poi mi sono emozionato così tanto che mi sono dimenticato di dirvi che parasharamuni il padre di viazadeva dice che ogni pianeta nell'astrologia è associato a un avatar di visno quindi e fa proprio una mappatura tra gli avatar e i vari pianeti e dice che i pianeti quando splendono nel puro sattvaguna assomigliano a un avatar di visno così il sole e vedete che rama viene proprio dalla dinastia del sole e rama un sole in esaltazione nella casa rama la luna e infatti krishna viene dalla dinastia del ruma della luna e parashara la mappa con krishna poi abbiamo marte la difesa nirsingadeva rappresenta marte nirsingadeva che salvò e protesse pralad uccidendo irani akashipur e marte come martedì mercoledì è buddha il mercurio è buddha il giove giove e trivikrama o vamanadeva infatti giove è un pianeta che si espande così come trivikrama questo avatar di visno che fece tre passi per vi racconto questa storia vi ricordate nell'ultimo episodio del ramayana per i yogi moderni la storia di trivikrama dei tre passi che fece visno per conquistare l'universo e restituirlo ai deva vedete lo scopo poi degli avatara è quello di riportare l'ordine cosmico proprio come espressione del satvaguna dell'energia del mantenimento poi abbiamo saturno saturno e kurma avatara perché rappresenta la stabilità kurma avatara l'avatara tartaruga che troviamo nel frullamento dell'oceano e poi abbiamo rau che varadeva l'avatara cinghiale e anche qua troviamo nel bagato purana e nel vara purana la bellissima storia di questo avatar ogni avatar è pieno di una sono pieni di storie di particolari di dettagli simbolici spirituali e così via esoterici e poi abbiamo ketu che rappresenta l'avatar a pesce che è chiamato mazia mia moglie mi dice che ho saltato il venerdì e quindi vi dirò il venerdì e venere è retto da rishikesha o che è una manifestazione di krishna oppure è retto da parashurama l'avatara bramana guerriero che che fece piazza pulita dei re dei re corrotti sarebbe interessante invocarlo in questo momento ok forse l'avevo saltato per essere politicamente corretto però non ci sono riuscito ok quindi ritorniamo a noi il il punto un altro punto quindi abbiamo visto che entrambi nascono da stirpi regali questo è il primo dei dodici punti il secondo che entrambi sono avatara di vishno e vi ho detto alcuni anediti io nel frattempo sbarro perché vi voglio proprio dire dodici punti il terzo è l'uccisione di una donna come primo praticamente come primo asura quindi primo tenebrato e questo non perché non ci sia rispetto della donna ovviamente ma proprio perché la donna che per questi avatara per questi principi era sinonimo di purezza la troviamo proprio in situazioni completamente opposte alla purezza quindi la donna è scelta proprio come emblema della purezza una purezza che viene corrotta in questi due casi ma che di cui sia krishna nella figura di madre yajoda e delle gopi sia rama nelle figure delle sue madri delle ancelle di corte era per loro una figura ideale la donna come l'erudizione la sapienza la donna era il primo guru per questi due personaggi e quindi vedersela così trasformata era proprio l'opposto ok uno stupore esatto e vi ho detto adesso non ve li cito ma nel ramai anaprioghi moderni negli ultimi episodi che abbiamo fatto vi ho anche detto le cinque ragioni per cui krishna chiude gli occhi prima di uccidere putana ecco questo è un altro segreto esoterico che ci racconta vijanati chakravati takor uno degli acciari della tradizione vijanava ok andiamo ancora un po a vedere un aspetto interessante allora qua salto dei punti perché ve li voglio dire in un altro ordine voglio lasciare per ultimo queste due tre cose dovete sapere che uno dei passatempi famosissimi di krishna che tra l'altro stiamo festeggiando inizieremo a festeggiare domani con l'inizio dei mesi di kartika è quando krishna ruba il burro alle gopi questo è uno dei suoi passatempi più dolci lo trovate nel primo volume del libro di krishna ecco questo è anche un mese molto favorevole a comprare questo testo e leggerlo perché stiamo proprio celebrando in questi parti in questa particolare mese che ricorre ogni anno il mese di kartika e per chi è iscritto alla mail list di yoga delle stelle da domani inizio a spiegarvi cos'è il mese di kartika più nel dettaglio anche da un punto di vista astrologico chi non è iscritto può iscriversi in yogadelle stelle.com c'è una newsletter in cui parlo di soprattutto da un punto di vista astrologico di quello che succede anche delle fastività indiane perché hanno tutte comunque un significato esoterico ma anche astrologico ed è interessante conoscerli per chi chiaramente ha questo interesse ecco proprio in questo periodo si festeggia questo passatempo in cui madre jajoda sta dando da mangiare a krishna krishna sta bevendo il latte da madre jajoda madre jajoda si accorge che aveva messo sul fuoco del latte e questo latte stava strabordando e anche per questo strabordamento ci sono dei significati esoterici perché gli acciari a vishnam vaticiatravati takur spiega che questo latte si sentiva frustrato perché voleva servire krishna ma non poteva servirlo perché madre jajoda stava dando il suo latte a krishna quindi il latte pensò che bisognava krishna di me se madre jajoda ha già questo latte pieno di prema pieno di amore che sta dando a krishna krishna non berrà mai e allora si voleva suicidare e quindi sapete cosa succede se mettete il latte del fuoco inizia a bollire a buttarsi nel fuoco e così questo latte voleva suicidarsi perché pensava sono inutile e questa è una grande storia perché madre jajoda sentendo che il latte non si trovava bene nel suo servizio lasciò addirittura krishna per andare ad aiutare quello spiritualista, quello yogi nella forma di latte che aveva questa idea di servire e così krishna si indispettisce perché stava bevendo il latte e allora se ne va via e rompe il bacchinario, l'anfora con cui madre jajoda stava zangolando il latte per creare il burro secondo un metodo tradizionale indiano e poi va in un'altra stanza e rompe queste bottiglie piene di yogurt, di burro chiarificato e inizia a prendere, sapete siamo in india, quindi inizia a prendere questo burro e darlo da mangiare alle scimmie, inizia a imboccare le scimmie e voi potete dire ma cosa c'entra con il ramayana? e beh non c'erano neanche nel ramayana le scimmie quelle scimmie erano manifestazioni dei vanara queste scimmie, tra cui hanuman è quello più ovviamente importante ma vedremo che anche hanuman ha a che fare con il mahabharata, ve lo dirò dopo e queste scimmie, che erano soldati semplici nell'esercito che aiutò Rama a riconquistare Sita erano andati, sapendo che Rama si era rimanifestato nella forma di Krishna erano andati per incontrare appunto il loro personaggio preferito e Krishna e Rama non aveva avuto l'occasione di dare un premio un, sapete, soldato, viene proprio da soldo nel senso i soldati sono coloro che si fanno pagare per andare in guerra e quindi non aveva avuto l'opportunità di dare una remunerazione a queste scimmie e così prese questo ghi, questo burro chiarificato, questo cior e iniziò a darlo, a imboccare le scimmie che erano felicissime di ricevere questa remunerazione e poi da là il passatempo continua che Madriyajoda se ne accorge Madriyajoda inizia a rincorrere Krishna Krishna piange e là c'è un bellissimo lila di cui poi cantiamo le canzoni nel Damodarastaka non so se Kishori vuoi mettere in chat magari una versione del Damodarastaka proprio per sentire c'è proprio una canzone bellissima che parla appunto di questo lila, di questo passatempo molto dolce pieno di significati, adesso non stiamo entrando nei significati di questa storia ma per farvi vedere che incredibile correlazione poi c'è tra Krishna e Rama ma di scimmie e di personaggi del Ramayana nel Mahabharata ne troviamo altri proprio così in carne ed ossa ad esempio dovete sapere che quando Krishna finì i suoi lila di bambino a Vrindavana si trasferì in prima matura dove finalmente uccise questo zio materno che gli mandava praticamente quotidianamente di Yasura per ucciderlo e che aveva imprigionato i genitori aveva imprigionato il nonno sulla scena le dinastie Bogia, Andaka, Iadu e così via che erano le dinastie della luna quindi la luna era stata eclissata da Kamsa proprio come i nodi lunari Rao e Ketu eclissano il sole e la luna ecco e qua Krishna tolse l'eclissi uccidendo Kamsa e da là gradualmente si spostò a Dvaraka a cause politiche e per cause politiche e dovete sapere che là nell'episodio, il famoso episodio Siamantaka che trovate nel secondo libro di Krishna è successo adesso non vi entro nel dettaglio di questo episodio perché è complicato, complesso ci fu un intrigo politico che avvenne a causa di un gioiello e si pensò questo gioiello era un gioiello tra l'altro del sole della dinastia del sole Siamantaka, Jewel il gioiello Siamantaka che venne regalato dal deva del sole quindi ha una connessione con la dinastia del sole apparteneva alla dinastia del sole ecco questo gioiello aveva il potere di creare enormi ricchezze produceva oro praticamente usciva oro da questo gioiello e chi lo aveva splendeva ed era eloquente ed era rispettato da tutti e così un giorno questo gioiello sparì e Krishna venne incolpato dalle male lingue che magari era stato lui a rubare questo gioiello allora Krishna andò in missione per andare a scoprire dove questo gioiello era finito e scoprì che era stato rubato dal figlio di Satyajit e che quel figlio era stato ucciso da una tigre e questo gioiello poi era sparito lui segue tutte le tracce come se fosse il rispettore Sherlock Holmes o il rispettore Derrick o qualcuno del genere e arrivò a questa grande caverna dove entrò e scoprì che questo gioiello era stato rubato da un orso particolare e questo orso vetusto antichissimo aveva un figlio e aveva dato a suo figlio questo gioiello come giocattolo quindi non gli dava un grande valore in realtà ecco iniziò una lotta furibonda che durò giorni e giorni quasi un mese in cui Krishna combatté con questo grande orso con questo orso umanoide a un certo punto l'orso umanoide si accorse di una cosa che nessuno sulla terra poteva essere forte come lui se non fosse stato Rama questo orso era Jambavan uno dei personaggi principali che farà parte dell'esercito delle scimmie perché tra le scimmie c'erano anche orsi c'erano anche altre figure e Jambavan era una manifestazione di Brahma quindi Jambavan veniva proprio da quell'era in cui dall'era precedente in cui Rama era si era manifestato e aveva creato una sua caverna dove viveva tranquillamente meditando come uno yogi costantemente su Rama sull'oggetto di Rama quindi Jambavan era l'orso del Ramayana e quando si accorse che che quello con cui stava combattendo era praticamente Rama nella vita precedente si inchinò davanti a lui gli offrì i suoi omaggi la sua gratitudine e gli offrì come moglie una delle principali moglie di Krishna che è chiamata Jambavati che viene proprio da Jambavan la figlia di Jambavan che chiaramente non era un orso ma era una bellissima donna piena di virtù e questo è un altro siamo già a 1, 2, 3, 4 e 5 parallelismi un'altra storia che c'è Jambavan era rimasto completamente assorto in Rama perché non aveva mai abbandonato la pratica yoga era sempre assorto in meditazione su Rama ma c'è un'altra scimmia uno scimmione che trovate sempre in questa sezione in questo secondo libro del libro di Krishna che è chiamato il gorillo Dravida il gorilla Dravida era un gorilla che invece a differenza di Jambavan che aveva mantenuto la sua pratica yoga e quindi non si era mai perso anche dopo l'assenza di Rama ecco il gorilla Dravida a causa di cattive associazioni aveva abbandonato la sua pratica yoga ed era rinata dentro di lui il suo lato animalesco da scimmione e il gorilla gravida ne compiva di ogni violentava faceva cose assurde rubava razziava anche lui era un seguace di Rama ma impazzisce si dimentica le sue patologie su cui non aveva più lavorato queste patologie ritornano e creano problemi non solo a se stesso ma agli altri ecco Rama punirà questo gorilla Dravida e pardonne Krishna punirà questo gorilla Dravida ma siccome nessun servizio all'assoluto è mai dimenticato donerà la visione al gorilla Dravida in modo da poter ritornare in sé e ri e ri attivare tutto il lavoro che aveva fatto nello yoga perché nello yoga nell'evoluzione nel percorso spirituale nulla è perso può essere che per karma per cattive abitudini per situazioni avverse possiamo momentaneamente dimenticare i crediti che abbiamo coltivati anche nelle vite precedenti in questa vita ma quando è il momento giusto questi crediti quando ritorniamo in noi quando usciamo fuori dall'incantesimo questi crediti e questo livello di coscienza ritorna e così Krishna punì la parte negativa di Dravida ma gli ridiede la luce affinché Dravida potesse ritornare in sé c'è un altro avvenimento quindi siamo 1,2,3,4,5,6 il settimo avvenimento è quando Anuman incontra Bima ecco Anuman lo troviamo nel Mabarata varie volte quando i Pandava erano in esilio Anuman incontrò Bima Bima era uno dei cinque fratelli fratello di Arjuna che troviamo nella Bhagavad Gita non solo Anuman lo troviamo nella Bhagavad Gita come nella bandiera di vittoria di Krishna e pardon del carro di Arjuna dove c'era anche Krishna come cocchiere se voi vedete nelle foto di questo carro che è molto famoso perché proprio la sede in cui venne narrata la Bhagavad Gita troverete che troverete questa insegna questa bandiera con la faccia di Anuman Anuman aveva promesso ad Arjuna di apparire di manifestarsi nella sua bandiera e di urlare perché era una bandiera era una bandiera interattiva potremmo dire multimedia multimediatica in cui Krishna nella Gita vediamo proprio questa bandiera di Arjuna nel Ramayana e quando inizia la guerra questa bandiera di Arjuna inizia a urlare delle urla di guerra che fanno intimorire l'esercito avversario c'è un altro aspetto interessante quindi siamo all'ottavo aspetto abbiamo visto che entrambi uno che entrambi nascono nelle stile per regali due entrambi sono avatara di Vishnu con piccola parentesi di cos'è avatara e avatari abbiamo visto che entrambi nel terzo punto uccidono per prima una donna asurica come primo asura Tadaka e Putana abbiamo visto che i Vanara soldati dell'esercito delle scimmie li ritroviamo nei lila di Vrindavana come le scimmie a Vrindavana abbiamo visto Jambavan l'orso della Mayana che offrirà a Krishna una delle sue mogli principali Jambavati abbiamo visto il gorilla Dravida sempre negli episodi di Dvaraka abbiamo visto come Anuman incontra Bima abbiamo visto Anuman nella bandiera di Arjuna e quindi stiamo toccando proprio dei personaggi importanti e vi voglio parlare un attimo di Lakshman del fratello di Rama e adesso proprio nel Ramayana se chi di voi sta ascoltando il Ramayana stiamo proprio accompagnando i due fratelli Rama e Lakshman che sono insieme a Vishwamitra che stanno facendo questo bellissimo vacanza studio per le foreste sono appena arrivati a Sidashram nell'ashram di Vishwamitra dove lo aiuteranno a sconfiggere i due Rakshache quindi portare a termine il grande sacrificio ecco questo fratello se voi vedete la relazione tra i due fratelli il fratello il fratello Lakshman è il fratello minore di Rama e se voi sapete nella cultura vedica nella cultura indiana il fratello maggiore è rispettato è servito dal fratello minore di solito il fratello maggiore il primo genito è colui che è come un padre quindi è rispettato di solito il fratello minore segue le orme del fratello maggiore ecco sapete che dopo tutto quello che è successo vedrete sempre più delinearsi nella maia nella figura di Lakshman ma Lakshman è più possiamo dire sanguigno nel senso che quando succede un'ingiustizia lui vuole subito prendere l'arco e le frecce sparare a tutti quando vogliono mandare in esilio Rama lui è pronto a prendere l'arco e le frecce combattere fare un pandemonio per dire no non è giusto Rama deve andare là e Rama sempre lo calma non stai calmo il dharma è quello di rispettare il padre il padre ci ha detto questo noi andremo là Lakshman vivrà proprio anche dei conflitti interiori proprio per queste cose proprio perché lui avrebbe agito avrebbe fatto in un altro modo e così Lakshman dentro di sé quando il Ramayana finisce fa il voto di non rinascere mai più come fratello minore di Rama dice la prossima incarnazione io mi incarnerò come fratello maggiore e così Krishna e Balarama hanno una relazione invertita rispetto a a Rama e Lakshman Rama è il fratello maggiore Lakshman è il fratello minore ma nei lila di Krishna nei passatempi di Krishna Balarama è il fratello maggiore e Krishna è il fratello minore Balarama sarebbe Lakshman e Krishna sarebbe Rama si sono invertiti e infatti nel Mahabharata troviamo tanti episodi in cui Krishna deve chiedere il permesso a Balarama di fare qualcosa se fosse stato se fosse stato Rama l'avrebbe fatto e basta e questo è un altro parallelismo interessante tra i due tra i due aspetti vi dico un'altra cosa interessante sapete questa famosa Suparnaca è la sorella di Ravana che Rama e Lakshman e Sita incontreranno durante l'esilio questa Suparnaca avrà questo atteggiamento che si invagirà ma di un amore più che altro fisico passionale di Rama e allora si presenterà là nell'eremo in cui Rama Sita e Lakshman avevano deciso di stare durante l'esilio e inizierà a cercare di sedurre Rama ma Rama aveva fatto il voto di avere solo una sposa anche se i re ai re era concesso diversamente ai re antichi per vari motivi che adesso non ci interessano aveva fatto il voto aveva proprio dato l'esempio di avere solo Sita Sita era l'unico suo amore glielo dice e gli dice anche scherzosamente c'è Lakshman che qua è solo e che non ha fatto questo voto e quindi e Suparnaca allora proprio mostrando che il suo amore non era diretto verso Rama ma gli andava bene un po' tutto basta che fossero belli e guardando Lakshman e vedendo che era un bellissimo immaginatevi queste figure divine la bellezza che potevano avere e Suparnaca allora fa delle avance su Balarama e Balarama gli dice ma scusa sono la seconda scelta vai da mio fratello e allora Suparnaca ritorna come in un ping pong da Rama e Rama gli dice guarda non posso farci niente allora Surparnaca nella sua idea dice ah beh lo stacco le Sita se lui può avere solo una moglie se io ammazzo quella che ho posso prendere il suo ruolo giustamente questa è matematica e giustamente Sulparnaca che era la sorella del grandissimo Asura o tenebrato Ravana che poi rapì Sita quindi capito un po' qual era la famiglia iniziò andò verso Sita cercando di strangolarla allora là Lakshman con le sue frecce tagliò il naso di Surparnaca questo è un episodio famosissimo è il luogo in cui c'è proprio un luogo in India che si chiama Nasik che è il luogo in cui a Surparnaca venne tagliato il naso c'è proprio un luogo che si commemora in India purtroppo non ci possiamo andare in questo in questo momento però possiamo andarci con pensieri in cui si commemora questo avvenimento in cui Surparnaca venne tagliato venne tagliato il naso ecco Surparnaca sapete Krishna in qualche modo Vishnu l'assoluto è al di là della dualità quindi in realtà quando c'è anche un desiderio qualunque desiderio questo sia verso l'assoluto questo viene comunque contato come come servizio ad esempio vi ho parlato di Putana Putana diventerà una una gopi una gopi madre nel lila di Krishna quella donna quella asura che si era avvicinata a Krishna per dargli il suo seno ma per ucciderlo ecco Surparnaca gli venne data un'interessante possibilità perché nel lila di Krishna quindi questo era avvenuto l'episodio con Suparnaca è avvenuta con Rama ecco nel lila di Krishna lo troviamo quando Krishna entra a matura e incontra questa donna che era gobba questa donna è chiamata Kubja proprio per Kubja vuol dire questa gobba che aveva questa gobba non era molto bella era una cortigiana aveva questo difetto fisico e si avvicina a Krishna perché vuole avere una relazione con lui e allora Krishna la prende per il mento poggia un piede sulla sua gamba e gli fa proprio una seduta accelerata di fisioterapia tira su e tutta la schiena si raddrezza e questa donna diventa splendente da questo tocco e Krishna gli dà una possibilità di relazionarsi con lui in una maniera più elevata proprio dando una possibilità quindi Surparnaca nell'Ila di Krishna diventa Kubja che incontra matura questo lo trovate nel secondo libro di Krishna ok un'altra similitudine ok c'è una domanda di Vito perché Rama è considerato energia di piacere nel Mahamantra allora Rama in realtà significa la fonte della piacere e generalmente nel Mahamantra Rama non rappresenta Rama Avatara ma rappresenta il nome Radha Ramana Ramana che Radha Ramana è un nome di Krishna quindi sarebbe sempre un nome di Krishna e Krishna significa la fonte del piacere la fonte del piacere Rama significa colui che dà piacere ok chiaro i devoti di Rama possono cantare il Mahamantra pensando a Rama e chi invece ha una predilizione un affetto una una spinta verso Krishna può proprio appunto recitare il Mahamantra e questo è il consiglio degli Acharya Vaishnava pensando che Rama significa appunto colui che dà piacere a Radha e quindi un nome di Krishna ok queste sono proprio cose iper esoteriche iper sottili diciamo ok mancano alcuni punti mancano alcuni punti ok siete pronti ad entrare nell'esoterico più esoterico che è più esoterico di così non si può entrare scrivetemi in chat perché gli ultimi punti sono veramente esoterici ok il primo sto proprio guardando perché me li sono segnati per dirveli tutti e dodici altrimenti se ne dico undici o tredici è una cosa strana visto che siamo stati così specifici nel titolo anche se ce ne fossero quindici me ne dovrei dire comunque dodici ok diciamo che il prossimo punto rappresenta le similitudini tra Vrindavana che è il luogo più intimo dei passatempi di Krishna e Citrakutta che è la foresta in cui Rama, Sita e Lakshman erano in esilio ma lontani dal regno adesso vi spiego qualche similitudine tra i due punti diciamo che se dovessimo dire che nei lila di Krishna e nei lila di Vrindavana sono i più dolci e i più esoterici ecco potremmo dire una cosa analoga nei lila di di Rama quando parliamo del punto più intimo della foresta in cui si si spostarono Rama, Sita e Lakshman esiliati in questa bellissima zona naturale piena di cascate e proprio immaginatevi proprio al centro di una foresta un luogo incontaminato in cui non c'era nessuno non c'era nessuno che potesse disturbarli ecco e questo perché c'è questo parallelismo dovete sapere che proprio nel Ramayana si parla del fatto che un giorno Lakshmi che Lakshmi nella dimensione celeste la dea della fortuna sta sempre massaggiando i piedi di Vishnu coricato nell'oceano casuale l'oceano della causa però dovete sapere che Lakshmi è la moglie di Vishnu e vuole avere intimità con Vishnu però Vishnu sta sempre accogliendo i Deva sta sempre accogliendo persone sta sempre parlando c'è sempre intorno a Vishnu ci sono innumerevoli angeli che cantano le sue glorie e quindi Lakshmi sente anche il desiderio di avere un'intimità di stare sola con Vishnu un giorno gli chiese gli espresse questo e e questo accadde proprio nel Tetra Yuga in cui Vishnu si sarebbe manifestato come Rama e disse Lakshmi vedrai che soddisferò questa tua necessità di stare da soli e poter scambiare la nostra relazione coniugale in modo semplice durante la nostro esilio quando saremo a Citrakut in cui saremo in questo ambiente bucolico in cui potremo sviluppare questa relazione d'amore coniugale che si chiama Madhurya è un sentimento d'amore spirituale e lo stesso Avrindavana Krishna ha questo sentimento d'amore coniugale con queste grandi spiritualisti che sono le Gopi quindi c'è un parallelismo tra questi lila e possiamo dire che i lila di Citrakut sono i più esoterici chiaro che già Rama aveva sposato la moglie però dovete sapere che i re le regine i principi hanno poca intimità perché c'è tutta la corte ci sono i servitori Rama aveva le sue Sita aveva le sue ancelle Rama aveva i suoi servitori che erano sempre presenti ecco Lakshmi voleva un'intimità come quella un'intimità dove c'erano solo loro e Lakshmi voleva quell'intimità di poter servire Rama direttamente con le sue mami cosa che non poteva fare nella corte perché nella corte ci sono i servitori che servono Rama anche nelle cose più piccole e Lakshmi voleva avere questo privilegio privilegio d'amore privilegio d'affetto privilegio di devozione quindi c'è una similitudine un parallelismo tra Vrindavana e la foresta citra kut ok un altro aspetto interessante quando Rama è in esilio alcuni muni alcuni i muni sono filosofi sono saggi nella foresta nel Rama Iuna per gli oghi moderni già li stiamo vedendo come questi saggi nell'antichità vivevano nella foresta perché la foresta è un ambiente più satvico più virtuoso più calmo più rilassato più in armonia della natura rispetto alle città ai palazzi alle metropoli in cui noi viviamo e quindi i saggi andavano a vivere appunto in queste in questi luoghi e c'erano alcuni muni che iniziarono a osservare la devozione di Sita questa devozione così elevata verso Rama iniziarono a desiderare nel loro cuore di avere quel tipo di devozione anzi di essere al servizio di questa unione coniugale tra Rama e Sita di essere come delle ancelle dei servitori e sviluppare dentro di loro il desiderio di servire Rama nel Maduria Lila nel sentimento di intimità e di questo amore coniugale di entrare in intima connessione appunto con questi Lila con questi passatempi ovviamente questi passatempi non hanno niente a che vedere con l'unione materiale tra uomo e donna quello può essere mischiato da tantissime altre cose che possono non sempre essere pure soprattutto nella nostra società ma hanno a che fare proprio con espressioni di devozione verso l'assoluto anche nella tradizione cristiana abbiamo queste sante che si consideravano espose di Gesù ecco questo sentimento d'amore verso l'assoluto questi muni questi saggi iniziarono a desiderare questo sentimento e lo iniziarono a esporre a Rama che gli dissero guardate col vostro corpo da muni è impossibile soddisfare questo ma nella prossima vita ogni vostro desiderio sarà soddisfatto così nei lila di Krishna Avrindavana in cui Krishna nella sua parte di gioventù manifesta questi lila divini con queste incredibili spiritualiste queste spiritualiste non erano nient'altro che personaggi speciali chiaro c'erano una sezione di queste gopi che erano nittia sida eternamente liberate e quindi che discendevano avatara anche loro discendevano dalla dimensione spirituale ma tra queste si dice che ci sono gopi che invece si incarnano la Avrindavana per la prima volta per realizzare per imparare quel tipo d'amore e per prepararsi quindi per quella dimensione in cui questo amore eternamente questa dimensione spirituale in cui questo amore si manifesta eternamente ecco tra queste abbiamo ad esempio le Vedacari quelle le manifestazioni dei Veda che troviamo nel libro di Krishna nell'ultimi capitoli del libro di Krishna le Vedacara coloro che erano Veda queste manifestazioni di Veda nella vita precedente abbiamo una serie di questi personaggi tra cui abbiamo i Municara ovvero c'è una sezione delle gopi nel libro di Krishna che erano Muni nei passatempi di Rama così chi ha una devozione verso Krishna un amore verso Krishna può anche vedere il Ramayana come una porta d'accesso a questi a questo sentimento così elevato che poi è espresso nell'ultima nella massima espressione da Shrimati Radharani così come Sita accompagna Rama l'energia femminile accompagna l'energia maschile così nei lila di Krishna è Radharani Shimati Radharani che accompagna Krishna in questi lila in questi sentimenti ci siamo quasi vi dico un altro aspetto questo ha a che fare con la famosa prova di castità di Sita quando Sita venne ripresa da Ravana in realtà poi vi spiegherò nel Ramayana che Ravana non prese assolutamente Sita ma Ravana prese Maya Sita questo ce lo spiega la Cetana Cetana di Tamrita prese Maya Sita prese una forma di Sita che era stata creata da Brahma come una sorta di bambola come una sorta di automa e non prese la vera Sita Sita venne presa in realtà da Agni dal fuoco e poi alla fine quando Rama sconfisse Ravana per far vedere a tutti che Sita era pulita che non aveva avuto nessuna relazione con Ravana chiese a Sita di entrare nel fuoco e tutti rimasero un po' stupiti perché sembrava che quasi Rama non si fidasse di Sita ma in realtà entrò nel fuoco venne bruciato quest'automa e Agni che il deva del fuoco tirò fuori Sita che uscì fuori indenne da questo fuoco ecco ci fu una prova di castità così anche nell'ira di Vrindavana venne fatta una prova di castità a Scimati Radarani questo perché alcuni dicevano adesso non entro nei dettagli però alcuni dicevano che Scimati Radarani siccome era innamorata di Krishna questo amore non era puro allora dissero proviamolo se mettiamo un colabrodi tipo uno scolapasta immaginatevi tutto bucarellato un'anfora bucarellata riempiamo l'acqua della Yamuna se Scimati Radarani riesce a portarla fino a questo posto allora Scimati Radarani è pura e così venne messo dalle gopi l'acqua della Yamuna attraverso in questo setaccio pieno d'acqua che venne messo nella sua testa perché chiaramente se questa acqua fosse caduta su Scimati Radarani sarebbe arrivata tutta bagnata nel posto di arrivo e Scimati Radarani arrivò completamente asciutta tutta l'acqua era rimasta in quella sorta di colabrodo perché la Yamuna la Yamuna in questo caso l'acqua guardate di nuovo la metafora il fuoco rappresenta il sole quindi la dinastia del sole Sitte con Rama anzi il fuoco è una manifestazione dell'acqua pardon il fuoco è una manifestazione del sole il calore la luce e dall'altra parte l'acqua che testimonia infatti la luna muovere maree è estrettamente connessa all'acqua e testimonia invece la purezza di Rada e la Yamuna testimoniò appunto la purezza di quell'amore che non ha che non aveva neanche un una piccola tinta di imperfezione o di impurità e l'ultimo punto punto di parallelismo il dodicesimo direi che ci siamo con gli orari e riguarda il lira di Cetaniamaprabhu Cetaniamaprabhu nella nostra tradizione indovedica è un'avatara di Krishna che si è manifestato 500 anni fa per spiegare i sentimenti divini trascendenti della Bhakti del puro amore per l'assoluto Cetaniamaprabhu fu anche se noi facciamo Kirtan o Canto dei Mantri lo dobbiamo a Cetaniamaprabhu il primo precursore tra l'altro in questo periodo è molto interessante perché Cetaniamaprabhu fu il primo nella storia a fare molto prima di Gandhi molto prima di questi grandi personaggi che fecero queste proteste non violente fu il primo a fare la prima protesta non violenta attraverso un Kintal fece un Kirtan dalla casa sua dal suo villaggio fino al luogo del Ciancasi del governo praticamente andarono a Palazzo Chigi noi diremmo a fare questa protesta cantando in mantra con queste fiaccole di notte una protesta non violenta per parlare col presidente del consiglio di quel momento e spiegargli due cosine diciamo che Cetaniamaprabhu fece il primo esempio di protesta non violenta è interessante questo perché noi di solito abbiamo come modello ad esempio Gandhi che venne con secoli e secoli dopo ecco Cetaniamaprabhu quando arrivò a Puri mostrò a Sarvabhoma Battaciaria uno dei grandi eruditi dei Veda gli mostrò una forma particolare una forma a sei braccia chiamata Sadbhugia e in questa forma aveva le sue due braccia che tenevano un bastone era diventato un Sagnasi un rinunciato un monaco due braccia che invece tenevano un frauto due braccia di Krishna e due braccia che invece avevano un arco in una mano e delle frecce nell'altra che rappresentavano Rama quindi troviamo anche questa connessione in Srinse Cetaniamaprabhu di questi due importanti Avatara è interessante che anche questo aspetto particolare magari alcuni aspetti sono più più comprensibili più più digeribili altri sono esoterici ok direi che vi posso fare un recap dei punti che ho toccato Rama e Krishna entrambi nascono in stirpe regali il sole e la luna entrambi sono Avatara di Vishnu ma in questo calpa in cui viviamo Krishna è l'Avatara di Vishnu Krishna è l'Avatari ovvero la sorgente di Vishnu ma non succede in ogni non succede in ogni calpa non succede in ogni era entrambi uccisero una donna come prima asura e questo non c'è niente niente di misogino roba del genere anzi la cultura vedica è una cultura del rispetto del femminile la donna è considerata come il primo guru e abbiamo visto che Ivanara abbiamo visto dei paralismi tra i personaggi del Ramayana e i personaggi del Mabharata come Ivanara le scimmie che troviamo nei passatempi di Krishna abbiamo visto Jambavan l'orso che combatte con Krishna e gli offre la sua sua figlia che diventa una delle mogli abbiamo visto il Golila Dravida che anche lui era un generale di questo esercito delle scimmie che viene in qualche modo poi messo in riga da Krishna abbiamo visto Anuman come incontra Bhima e come entra nella bandiera di Arjuna abbiamo visto Lakshman parallelismo tra Lakshman il fratello minore di Rama e Balarama il fratello maggiore di Krishna e perché Lakshman ha scelto di incarnarsi come fratello maggiore abbiamo visto come altro personaggio Surparnaka che si manifesta come Kubja e poi abbiamo visto alcuni aspetti esoterici come i Muni che diventano Gopi abbiamo visto le similitudini tra Vrindavana questo luogo molto esoterico dei lila di Krishna dei passatempi delle storie di Krishna e ci tracuta questo posto molto esoterico dei lila di Rama che vedremo in Rama in Aprilioghi moderni e poi abbiamo visto le prove di castità di Sita connessa al fuoco che è legata alla dinastia del sole e di Rada connessa all'acqua che invece è legata alla dinastia della luna e poi abbiamo questo ultimo aspetto questo è il dodicesimo della forma a sei braccia di Sishetani Amaprabhu che manifesta le sue due braccia da Sagnasi due braccia di Krishna col flauto Krishna suona il flauto a Vrindavana e due braccia di Rama invece con l'arco e la freccia che rappresenta appunto questo personaggio guerriero che porta alla giustizia ok ci sono considerazioni domande scrivetemi in chat scrivetemi se avete trovato interessante questi aspetti di cui abbiamo parlato se erano troppo esoterici o andavano bene cinzia scrive a quando il prossimo avatara grazie cinzia ah forse stai chiedendo quando scenderà il prossimo avatara non quando vi racconterò il prossimo avatara beh detto che nel Kali Yuga in questa era in cui viviamo alla fine di questa era arriverà Kalki avatara ma stiamo parlando di fra molto molto tempo non ci saremo in questa forma ma si dice che Kali Kale Nama Rupe Krishna Avatara che in questa era uno degli avatara è proprio il mantra che rappresenta il nome divino come Krishna Rama questi nomi sono come degli avatara hanno al loro interno una potenza che ci permette di connetterci a quest'avatara anche la letteratura sacra chiamata Shiman Bhagavatam è considerato un avatara quindi significa che connettendosi a questa letteratura connettendosi ai mantra che i Nama mantra i mantra che rappresentano i nomi divini è possibile connetterci direttamente all'assoluto grazie Rodica grazie Raffaele grazie Stefano grazie Davide Stefano dice calchi infatti ce ne vuole per calchi quindi noi non lo vedremo probabilmente in questa vita Davide consiglia di fare più spesso queste dirette chissà forse se forse le faremo più spesso ok aspetto ancora qualche grazie Danielita Giampiero ci dà una serie di aspetti sul Mabarta grazie grazie mille grazie Cinzia sì Rodica allora ci sono varie interpretazioni nell'interpretazione della scuola che segue della interpretazione astrologica c'è una visione diversa il Kali Yuga ancora dura 400 432 mila anni ne sono passati solo 5000 ma penso che le due teorie si possano concordare sul fatto che come esistono periodi esistono sottoperiodi quindi ovviamente nell'era in cui siamo ci sono sottoperiodi e possiamo suddividerli di nuovo in Kali Yuga Tetra Yuga Satya Yuga Kali Yuga Tetra Yuga e così via Dvarapha Yuga scusate ve li ho detti non in ordine Satya Yuga Tetra Yuga Dvarapha Yuga e Kali Yuga ecco quindi all'interno di una stessa era esistono dei cicli e quindi secondo me si possono sposare bene entrambe le teorie se si considera questo fattore penso che Swami Sri Yuga parlasse di sottoperiodi all'interno di questa era ho studiato o so a cosa ti riferisci so a cosa ti riferisci anche come astrologo però questo è il mio punto di vista quello che ho capito le due teorie si armonizzano quando si considera che quella tradizionale che considera queste ere molto più ampie sia comunque intervallata e questo è descritto nei Veda da sottoperiodi che allo stesso modo si chiamano in questi modi con cui chiamiamo i macro periodi Danielita ovviamente però se dovessimo parlare del suono dell'om dovreste darmi altre due ore grazie Jody Davide sì penso che che si riferisse alla durata delle ere alla durata delle ere cosmiche e quindi che parlasse esatto che parlasse per la cultura vedica siamo nel Kali Yuga ma essendoci sottoperiodi possiamo dire che siamo nel Kali Yuga ma siamo in un sottoperiodo di Satya Yuga di Devarapha Yuga e così via quindi ci sono periodi più grandi e sottoperiodi non so se mi sono spiegato Davide scrivimi se e quindi in questo modo i due punti si incontrano fra di loro ok ci sono altre domande considerazioni siamo arrivati alle 20 probabilmente ci stiamo per salutare scrivetemi se avete altri punti sarà un mio piacere parlarne non so se Mangalananda Probuse è in linea vuoi scrivere qualcosa per tutti o Gonvitanandini Mataji o Citra Gian Piero chiede è possibile per un astrologo studiare le carte astrologiche di Krishna e Rama e la risposta è sì assolutamente sì perché nelle scritture sono narrate le posizioni planetarie dei pianeti quando c'è stata l'apparizione sia di Rama che di Krishna anzi come studi astrologici si si studiano proprio queste carte connesse ai lila ai passatempi proprio come 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 tecnica di apprendimento quindi assolutamente abbiamo sia la carta di Rama che la carta di Krishna ok grazie Davide grazie Mangalananda Prabhu e quindi direi che vi saluto starei con voi tutta la sera ma ovviamente vi lascio andare a mangiare e e ci vediamo alla prossima diretta grazie mille all'associazione culturale Sankirta Yoga per avermi invitato e direi che ci vediamo presto vi lascio con una sigla finale che probabilmente qualcuno di voi già conosce è una sigla finale che che inizia proprio col mantra inizia che inizia che inizia